Ciao ragazzi, ci troviamo oggi a Sella Nevea. Precisamente siamo davanti alla coserma della guardia di finanza e oggi andremo su in notturna a casera Cranieri. Dietro di noi ragazzi abbiamo la Bila Fecce e tutta quest'altro diciamo quest'altra catena montuosa davvero fenomenale. Cercato il cielo sia un po' nuvoloso ma secondo me guardremo una bella luna piena. Adesso arrivo a un tratto dove mi toglierò le ciaspole perché non c'è più la neve, quel fuoco che c'è diciamo lo sto facendo adesso. Qui la pendenza si fa un po' a sentire ma proseguiamo tranquilli. Rambocchiamo la forestale e andiamo. Ciao. Iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti Grazie a tutti Continuiamo sempre su 625 e andiamo su per la ballata Nel mentre lassù si sta prendo un bel panorama La prossima sosta metterò la frontale In questo modo vedrò insomma dove sto andando Guardate qui come si apre Davvero bello Ok ho messo la frontale Adesso andiamo qui Ragazzi il bosco di notte è spettacolare Non avevo mai trovato questa esperienza Devo dire che è veramente qualcosa di figo Scusate un po' la qualità dell'immagine ma dovete capire che le luci qua sono un po' contrastanti Sono circa le 7 Però non abbiamo nessun problema Arrivaremo alla malga con il buio questa Adesso siamo nella Blue Hour Siamo chiamata molto bella La prossima foto e ve la mostrerò subito È bello anche sentire i vari rumori del bosco Il vento È veramente veramente bello A le mie spalle sono tutte le montagne Sì Sì Siamo praticamente arrivati alla Cagara Ora vi cercherò di mostrare un pochino Sì 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 Bene ragazzi questa avventura finisce qui Noi ci vediamo alla prossima Ciao Noi ci vediamo alla prossima Sì Sì